Salve a tutti amici di Amazon, piccolo unboxing e vi mostro questo prodotto Exclusive Kimi Universal Unenram Ranger Universal Interior Cleaner perdonatemi, mi sia caratterisco comunque, questo flaconcino questo spruzzino che sarebbe un prodotto per la pulizia degli interni della vostra auto ok, quindi sono 0,5 litri quindi mezzo litro di prodotto avete un comodo spruzzino con il blocco stop così che lui non spruzzi oppure lo girate in senso orario dove a quanto pare dove vedete il simbolino lì con gli spruzzi se voi spruzzate lui spruzza ok, avete visto adesso non posso pulire perché non ho uno straccio comunque non importa invece sì, ce l'ho ok, ecco fatto comunque il profumo che adesso si sente veramente delizioso un misto di agumi dolci tipo limone molto buono ok, l'ho provato sulla mia auto l'ho provato sul sul cruscotto l'ho pulito molto bene ovviamente non spolvera quindi non lo utilizzate per spolverare ma prima spolverate tutta la vostra auto passate l'aspirapolvere dappertutto se c'è qualche macchia sui sedili ci spruzzate questo e strofinate sulle prese d'aria uguale spruzzate questo con uno spazio andate a spargerlo bene su tutta la zona interessata e ripeto sì utilizzatelo per rifinire diciamo la vostra macchina quindi quando la vostra macchina è pulita spolverate tutto usate questo per tutte le superfici ci date un'ultima passata così avrà un buon profumo e sarà ben ben pulita ecco un bel prodotto veramente molto buono mi è piaciuto un sacco e ripeto l'ho utilizzato una settimana fa sulla mia auto e ancora adesso sento il profumo di questo prodotto quindi veramente soddisfatto un saluto da Thomas al prossimo video e recensione ciao a tutti ps vi lascio una foto di tutto quello che c'è scritto qua dietro così potete tradurlo così potete tradurlo perché è tutto in inglese o in tedesco dato che questo è un prodotto tedesco ecco ciao ciao